Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1 per lavori fino alle 18, tratto chiuso verso sud tra BV1 variante e Rioveggio, entrata consigliata verso Firenze-Rioveggio. Per la mobilità sulla Firenze-Mare troviamo coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola e coda a tratti per traffico tra Monte Cateni Terme e BV111, tutto in direzione di Firenze. In FIPILI restano code di 2 km per lavori tra Montelupo e Ginestra in direzione Firenze, in carreggiata opposta tra La Strassigna e Ginestra. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla SP12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Sempre in FIPILI, verso Livorno, 1 km di coda per incidente tra Interporto Toscano Ovest e il BVOSGC A12. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!